Ciao e benvenuto a Pillole di Design. Quello che vedete è una poltrona, una delle più importanti della storia del design, progettate da Charles e Ray Eames, che si sono semplicemente fatti una domanda. Perché non realizziamo una versione aggiornata della vecchia poltrona da club inglese? Con questa frase Charles Eames diede il via al progetto per il quale oggi questa poltrona è un'icona del design, la long chair.